In un mondo, quello del Van Life, con sempre più richieste su prodotti veloci, smart, pronti a partire per tutte le esigenze, due prodotti insieme in un'unica recensione, due top di gamma, sicuramente i due dei veicoli più richiesti ad oggi del mercato, il primo, Poso Twin R, il van più venduto in Europa, con quello con in assoluto più richieste, e il secondo, probabilmente il van più innovativo d'Europa, in quanto la sua disposizione, il letto saliscende, il bagno che si apre, l'ADNet che si allarga, il tetto pop-up con tecnologia FSI lo rendono davvero unico e magico. Due van così richiesti in un'unica recensione, in una concessionaria, il Centro Caravans Barassi, con me, che sono Luca del Centro Caravans Barassi, appunto, i best-seller sono loro protagonisti di questa recensione, su questi due veicoli van 5,99 metri, andiamo a vederli insieme, il perché uno è così tanto richiesto, è perché l'altro è così tanto amato. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché ancora non l'avesse fatto, un bel pollice, ragazzi, un like, clic non costa nulla, ma noi rende davvero tanto, e anche su tutti i nostri social, poco fa ho registrato la intro su Instagram, quindi su Instagram avete i contenuti sempre prima, anche lì, Centro Caravans Barassi ci trovate, Facebook, insomma, tutti i social, anche TikTok, ragazzi, qui si vola, ma oggi, come dico sempre, si sogna, e come dico sempre, intanto partiamo! Grazie a tutti! Eccoli, Vanturer 600D Post-Win R, quindi una recensione di due veicoli, da una parte molto simili sul fattore di tecnologia, bagno che si allarga, che si apre, o letti che si possono alzare, nel caso del Vanturer, in un'unica soluzione, nel caso del POSL si possono personalizzare e parzializzare. tetto a soffietto SCA in una versione, tetto a soffietto prodotto da Knauss, Vanturer FSI, la tecnologia, retroilluminato, preso USB e riscaldato, invece, nella parte della sezione del Vanturer. Due veicoli così simili, ma così in realtà anche diversi. POSL, azienda leader storica in tutta Europa, la prima azienda a produrre van in maniera così importante. Vanturer, una delle ultime nate, se vogliamo, ormai con più di 5 anni, però così innovativa, non si era mai visto un prodotto su van. Come sempre, nei commenti poi scrivete la vostra, preferite lui, il bagno R o Vanturer? Abbiamo montato all'interno, sul Vanturer, il kit terzo posto letto, invece, abbiamo lasciato la dinette normale per quanto riguarda il Tuguin R, per farvi vivere proprio questa recensione, anche a fattore appunto di spazi. È fondamentale che voi capiate realmente gli spazi di questi veicoli. E anche qui vi invito, presso la nostra concessionaria, con oltre 95 veicoli in pronta consegna, insomma, c'è tutto per partire su questo nuovo viaggio che si chiama van dell'Avanturer e Tuguin R. Partiamo appunto dal Tuguin R. Abbiamo fatto negli anni tantissime recensioni, sempre stato appunto uno dei nostri master, i nostri cavalli di battaglia. Oggi lo presentiamo con delle modifiche, perché vi ricordo che Posla è un veicolo che ha veramente tantissima possibilità di personalizzazione. Vanturer ragiona più su pacchetti, e invece, per quanto riguarda il Plus, il pacchetto Plus appunto racchiude un po' quelle che sono le richieste maggiori, sia della parte della meccanica, specialmente qualcosa anche dell'interno, ma tendenzialmente è una mentalità leggermente diversa per quello che riguarda appunto un Vanturer e un Posla appunto sul fattore di pacchetti. Meccanica Citroen, ormai si sa, Posla e Citroen sono marito e mogli e felicemente sposati. Abbiamo aggiunto i cerchi in lega, abbiamo aggiunto anche le finestre Sites S7, abbiamo aggiunto anche la Truma Diesel come riscaldamento, abbiamo aggiunto tetto pop-up, che in questo caso la versione è nera, il tetto pop-up si può avere sia nella versione bianca ma anche nella versione black, sinceramente lo rende ancora più sportivo, ancora più aggressivo dal vivo, è davvero uno spettacolo. Partiamo da lui, quindi dal reparto bombole, due bombole classiche per quanto riguarda il Plus to Win R. Ci tengo a precisare che nella versione Truma Diesel o nella versione gas saranno sempre due e sempre lo stesso lo spazio delle bombole. Come vi spiegavo nella intro, questo letto è personalizzabile, parzializzabile, quindi è possibile andarlo a inserire da questa parte, quindi sul lato sinistro, lato conducente, e vedete quelle cinghiette vengono fatte apposta per far sì che poi il tutto si vada a chiudere e parzializzato all'interno di questo spazio. Quindi rimane un veicolo con un letto di 157 cm, quindi uno dei più grandi sui 5,99 m, scusate, grazie al suo bagno R, totalmente libero. Pozle due anni fa ha cambiato leggermente il lato del garage, in quanto ha aggiunto questa sezione che trovo molto comoda se avete scarpe, stivali, sci, insomma tutto quello che riguarda una parte laterale e ha aggiunto anche quello sportello. Quindi questo è quello che riguarda la zona laterale, la zona posteriore, la zona del vano garage, per quanto concerne Pozle. Invece andiamo a vedere quello che è un VanTurer. VanTurer già apriamo, totalmente diverso, nasce con l'ideologia di avere sempre con sé, e io tra l'altro avendo avuto VanTurer, è stata, torno a dire, una delle esperienze più belle, ho dei ricordi favolosi su quella vacanza lì, avevo sempre con me due bici di comunque dimensioni LM, monopattino, monopattino della bambina, quindi insomma avevo veramente il mondo più all'interno, avevo caricato più o meno davvero il mondo, perché mi dava questa opportunità? Perché a differenza degli altri veicoli che hanno il bocchettone dell'acqua esterno, ma hanno proprio il serbatoio dell'acqua, delle acque chiare interno, invece VanTurer, il serbatoio delle acque chiare, lo inserisce coibentato, isolato, sotto chassi. Quindi lo andiamo a ritrovare sotto, ma vedete che il gradino d'ingresso è più basso rispetto al serbatoio, quindi non dà nessun problema a fattore di comodità, di circolazione, ma questo ti toglie una parte molto importante nel garage, quindi riesci a fare questo scassi, due sono laterali a destra e a sinistra, appunto perché così vengono inserite le biciclette in larghezza. Ora, questo letto è un optional, ma è possibile farlo sali e scendi, adesso io provo con la mano destra, quindi come vedete all'interno ci sta addirittura un motorino, perché hanno fatto un riscaldamento a 6 kilowatt diesel, in questo caso di serie, mentre su Postle abbiamo un riscaldamento a gasolio, sì, come optional, 1189 euro, 4 kilowatt, qui abbiamo il 6 kilowatt, quindi abbiamo già il riscaldamento più potente rispetto anche a un altro riscaldamento come optional, quindi complimenti a Vantourer, quindi in realtà abbiamo bisogno di una bombola piccolina, che possiamo recuperare praticamente ovunque, che verrà inserita nella parte in fondo del garage stesso, quindi noi non abbiamo nessun tipo di problema, in quanto tutte le utenze, frigorifero, batteria, l'unica utenza che ci andrà con il gas sarà appunto il fornello, ma questa durerà talmente tanto che non ci darà nessun mai problema a fattore di recuperare gas, anche se poi in realtà anche qui è recuperabile praticamente ovunque, una bombolina si riesce a trovare ovunque. Abbiamo qui invece tutte le varie utenze che ci serviranno nella lavorazione, queste sono molto comode anche per voi, in caso ci sia un problema, è molto facile capire e andare a sistemare subito il tutto, salva vita, salta, dovete semplicemente alzare e fare. Coibentazione di massimo livello, quindi Vantourer ha ricoibentato tutto, ha messo un feltro antifreddo, chiamiamolo così, per far sì che la parete non subisca uno shock termico, invece un materiale in ABS per quanto riguarda POSL, sicuramente più semplice, molto funzionale, i veicoli POSL sono veicoli che in tutta Europa vengono venduti a numeri importantissimi, quindi questo comunque già è una sicurezza, è una grande assicurazione sul fatto della qualità. Certamente chi cerca un prodotto Vantourer cerca tendenzialmente anche il garage. Il serbatoio, ci tengo a precisare, perché questa è una cosa comunque molto curiosa, dalla parte sinistra abbiamo la 220 che in questo momento è inserita, invece nella parte destra abbiamo sempre il bocchettone che poi andiamo a ritrovare anche sui veicoli van normali, ma questo bocchettone non va, come vi spiegavo poco anzi, a caricare la parte interna destra, ma va appunto a caricare la parte centrale, quindi migliora in realtà anche il baricentro del veicolo, in quanto l'acqua facendo peso sulla parte centrale non va a viaggiare sul veicolo leggermente storto. Richiudiamo Sites S7 anche nella parte posteriore, invece per quanto riguarda alcuni veicoli riescono, mantengono la parte più grande nel vetro posteriore, ma sia Vantourer che POSL la fa leggermente diversa, più tagliata quella di Vantourer, più grande quella di POSL, ma anche POSL decide di avere sempre le finestre a filo anche nella parte posteriore. La parte principale l'abbiamo già vista, che è quella del garage dove davvero si identifica il prodotto Vantourer, dove chi ha amante uno sportivo, biciclette, qualsiasi cosa, sceglie prevalentemente Vantourer, ora però saliamo internamente e vediamo anche le differenze per quanto riguarda la parte interna. A bagno aperto, quindi ragioniamo proprio a bagno come in questo caso dove io ho il corridoio totalmente libero, abbiamo un letto sicuramente più grande per quanto riguarda il POSL, in quanto appunto lo sviluppo di questo bagno che è in larghezza e non in lunghezza va a beneficiare molto sulla vivibilità del letto stesso, barra elettrificata per far sì che si possano portare le luci o le prese anche USB all'interno di questa barra stesso, oscuranti Remis con la possibilità di parzializzare anche qui le varie aperture, possiamo tenere per la nostra privacy una parte chiusa, una parte aperta, zanzariera chiusa, zanzariera aperta, tutte le finestre posteriori sia per quanto riguarda POSL sia per quanto riguarda Vantourer sono invece totalmente apribili, nessuna di queste chiude. Bagno R, il bagno probabilmente più amato da tutti gli utenti, il WC si può girare per cercare la posizione piuttosto per voi, la tavola di legno è possibile toglierla quando si fa la doccia, vedete abbiamo un materiale che è quello che si serve nel fare appunto la doccia stessa, si va a riporre la tavola di legno a doccia finita per far sì che il passaggio possa rimanere. Altro vantaggio che vi dà, l'ho detto anche su Instagram, vi ricordo di iscrivervi anche su Instagram e mi raccomando, è quello che se io voglio tenere l'ambiente come in questo caso chiuso nella parte letto, quindi voglio avere la privacy nella parte letto sul bagno tu in R, ma anche su Vantourer poi in realtà si può tranquillamente fare. Finestra per poter fare anche la doccia esterna, perché è possibile estrarre il lavandino e portarlo nella parte esterna, la finestra è opaca ma non toglie il fatto che Pozli inserisca sia l'oscurante che la zanzariera, quindi anche questo è una cosa molto carina. piccolo ripostiglio, mi sarebbe piaciuto avere magari una mensola di divisorio, questa si può comunque fare. Apprezzabilissimo invece il fatto che l'ho visto prima sul Vantourer nel garage, lo ritrovo anche in Pozli, questo è sinonimo di qualità e di attenzione nella cura dei dettagli, tutta questa guaina che viene inserita viene messa per far sì che durante la marcia non ci siano problemi di rumore o almeno tutto questo venga veramente ridotto al minimo. piccoli passi, esteticamente si è raggiunto un livello così alto di bellezza, cosa fare? Le aziende intelligenti, le aziende che lavorano con un futuro vanno a migliorare quelle parti dove c'è la vibrazione, dove c'è il rumore, dove c'è il fastidio, quindi complimenti a entrambe le aziende perché anche su Vantourer, che dopo insieme comunque lo vedremo, è presente tutto questo materiale per far sì che il legno non possa dare rumori. Mobilio elegance, anche questo è un optional, il mobilio non elegance a me personalmente non fa impazzire in quanto è comunque un mobilio un po' più old, chiamiamolo così, un po' più vintage, invece in questo caso abbiamo un mobile molto moderno e molto bella anche la struttura dei ripiani delle mensole di Pozli e è da tenere in considerazione che nella parte posteriore abbiamo un giro pensili, quindi anche qui abbiamo più carico e questo come vedete ritrova sempre un materiale in ABS per far sì che possa sempre girare l'aria all'interno di esse, guardate anche la lavorazione di questi spifferi d'aria, è niente attaccato con niente anche nella parte posteriore, quindi sicuramente un complimento va a Pozli per tutta questa costruzione. Torra ripetere, questo veicolo io lo conosco a memoria ormai, dimensioni, altezza, larghezza, disposizione interna, mobilio, davvero tutto perché è stato per anni prima di tutto questo boom di richieste il veicolo dove avevamo in assoluto più richieste, scusate questo gioco di parole, poi è cambiato un po' anche il cliente, un po' anche i brand che si sono più evoluti, Pozli ovviamente essendo un'azienda tedesca il mercato loro locale è esploso, quindi automaticamente per l'Italia è arrivato meno prodotto, molto interessante il fatto di questa coibitazione sul tetto, quindi abbiamo una specie di feltro anche nella parte del tetto, tetto SCA con la possibilità di avere un oblò 40x40 posteriore, non viene inserito invece l'oblò nella parte dietro, cosa che viene fatta invece su Vanturer. Tavolo, anche questa è una lavorazione di circa tre anni fa se non ricordo male, è stato sagomato, prima il tavolo era più quadrato chiamiamolo così, non dava la possibilità di girare, adesso in questo momento è avanti, però girando il sedile come vedete se ci fosse il tavolo quadrato toglie molto questa opportunità di passare nel lato della cabina e in realtà c'è ancora, ma viene fatto solo se non viene aggiunto come optional il tavolo in alternativo si chiama, che è questo tavolo con la possibilità del piano che si estende. Andiamo a fare un saltino invece, sempre in Germania, ma andiamo in Vanturer, andiamo a vedere, allora come vi ho spiegato, non sarà possibile vedere un uguale identico a Puzzle, perché lo faremo appunto vedere su Puzzle Zest, ma qui almeno abbiamo montato un kit terzo posto, che girando il sedile si può dormire in lungo tranquillamente, circa 1,80 m, quindi abbiamo un'opportunità molto comoda di poter dormire in lungo, Puzzle invece il kit terzo posto lo fa in larghezza, dove vi sto facendo vedere io, vi viene data una tavola di legno in più, un materasso differente, quindi si dorme in larghezza, vantaggio, dormo probabilmente in larghezza più lungo, sicuramente più lungo, svantaggio se voglio uscire, io sono nella parte posteriore o nel tetto pop-up, lo trovo forse più scomodo, teniamo in considerazione però una cosa, entrambi questi veicoli hanno il tetto pop-up, il kit terzo posto, sì, lo accetto, mi va bene, una cosa in più, sono contento, però vabbè, non è magari così indispensabile. Letto, quindi andiamo a vedere anche dalla parte interna, voglio caricare il garage, bello, full, bello, pieno, posso farlo, vantaggio di un Vanturer, non devo mai uscire dal van, quindi caldo, freddo, non devo mai uscire, posso semplicemente alzare il letto. Altro vantaggio del Vanturer, a differenza degli altri, Puzzle, esempio come Puzzle brand, non fa doppi letti matrimoniali posteriori, lo fa ma nella sezione Rodcar, quindi non come Puzzle brand. Invece su tutti i modelli Vanturer, tutti, qualsiasi 540, 600, 600L, 630L, è possibile inserire il doppio letto matrimoniale come optional, anche in questo caso è possibile come optional inserire appunto un altro letto matrimoniale. Nonostante siamo quasi al massimo, sopra rimangono comunque i 60 cm vivibili, poi vabbè, ovviamente si può sempre tirare giù il letto, adesso come vedete io con una mano ho fatto tutta l'operazione, quindi rimane più vivibile. Cosa perdiamo nella parte posteriore? La corona di pensili lì non c'è, in quanto ovviamente rialzando il letto, come vedete, sarebbe invivibile perché si dorme con la testa da questo lato qui, quindi lato passeggero. Perché da questa parte non c'è ovviamente l'armadio? C'è una, diciamo, una tasca, porta tutto, non c'è un armadio perché se no sarebbe troppo poca la vivibilità all'interno di questo letto. Quindi complimenti veramente a Vanturer perché qui è stato fatto un lavoro unico in tutta Europa. Adesso qualcuno, visto che ha provato a copiarlo, però rimane sempre l'originale. Frigo alto a compressore, quindi abbiamo comunque lo stesso frigo, con una differenza che qui abbiamo un Viterfrigo, leggermente diverso ma con sempre cella freezer sopra in alto. Un frigo che è di un'ottima capienza, ormai sono tre anni che la Vanturer collabora con Viterfrigo, si trovano molto bene, è una capienza di 90 litri, quindi insomma è una capienza interessante. Bagno, per quanto riguarda quello del bagno della Vanturer che è sicuramente enorme, guardate il lavabo, enorme davvero. Anche qui può uscire la ferramenta del lavandino e essere portata fuori. Io adoro, davvero adoro questo materiale qui, mi piace un sacco, mi sembra di essere su uno yacht di lusso, ma anche il legno mi ricorda un po' una barca di lusso. Anche qui il water si può girare, tanti piccoli spazi, tanti piccoli pertugi, anche il push in alto. Questo bagno ve lo faccio vedere perché ho voluto lasciare, mentre sul Twin Air sono riuscito a passare, qui invece ho voluto proprio lasciarlo com'è con la pedana chiusa. Vi faccio vedere magari delle foto di com'è con la doccia aperta, per farvi capire che è possibile sganciare queste parti della porta perché è abbattente, la porta è suddivisa in due, quindi è possibile aprire tendenzialmente un po' quello che vi ho detto prima. Si crea la zona privacy più o meno così dalla parte opposta, quindi è possibile fare un sistema molto simile al Twin Air. A differenza del Twin Air che ha solo la tendina che divide la zona VC, quindi non ha bisogno di nessuna tendina, invece il van tourer ha bisogno della tendina e il circuito, il percorso della tendina è quello che vi sto indicando in questo momento. Quindi abbiamo un giro tenda, premetto però che la tavola di legno si alza e sparisce e tra l'altro sotto il letto c'è già il porta tavola. La doccia è talmente grande all'interno della doccia, si sta in un ambiente talmente grande, guardate io in questo momento dove sono e non sono di certo magrissimo, però anche che io stessi qua la doccia, la tenda va a ricoprire più o meno la bordatura, quindi noi non sentiremo mai l'effetto, e ve lo dico per esperienza, ho avuto un van tourer, non sentiremo mai l'effetto tenda su addosso appiccicato, in quanto la tenda è dalla parte praticamente opposta di dove ci troviamo noi e credetemi è davvero difficile anche solo toccarla. Premetto che è una tenda non di quelle viscide, ma una tenda di qualità molto alta, che è possibile in caso che è bagnata toglierla, stenderla nella parte esterna. Altra particolarità del veicolo van tourer, a differenza degli altri, è che è possibile far traslare la parte della dinette con questo cuscino che poi in realtà si va ad aggiungere nella parte centrale, quindi come vedete è sicuramente più comodo. Attacchi isofix nella pos, ma perlomeno nessuno ha gli attacchi isofix. Parliamo invece di un argomento importante, prima passiamo per la cucina, andiamo a vedere i due sviluppi Dometic della cucina van tourer, quindi doppio fuoco, tagliere, tra l'altro adoro farlo, adoro davvero, i push li adoro, devo smettere assolutamente. Lavandino in acciaio inox, quindi un ambiente suddiviso, un ambiente no, i fuochi e il lavello suddiviso, sotto andiamo a ritrovare i vari cassetti, anche qui si percepisce il prodotto di qualità, ritorno automatico di tutti questi cassetti. Invece per quanto riguarda il puzzle, diciamo lo sviluppo della cucina è praticamente identico, sempre della cucina, scusate, sempre della Dometic, sempre due fuochi, piezzo, sotto abbiamo leggermente diverso i cassetti, in questo caso però non rientrano in maniera automatica. Sono veicoli che hanno un costo anche leggermente diverso, non così tanto diverso, ma leggermente diverso, il van tourer è un po' più caro rispetto a puzzle, che da sempre è un prodotto identificato come van, fa solo van, sia puzzle che van tourer, ma come qualità prezzo sicuramente più importante. Andiamo a toccare un tema sensibile, a lungo della cucina, scusate intanto per chiudere, e a lungo della cucina anche per quanto riguarda la puzzle, è carina l'idea di fare la patumiera che è possibile, è calamitata ed è possibile toglierla quando ci servirà a portarla via. Argomento sensibile, attualissimo, il tetto soffietto. Tetto soffietto van tourer, tecnologia FSI, retroilluminato, riscaldato, prese USB, porta oggetti. Tetto invece della POSL SCA, diverso, prodotto che conosco benissimo, su altri brand, lo monta Etrusco, lo monta Imer, tutte aziende, Deathless quest'anno non più, ma tutte aziende che rappresentiamo in realtà, vi ricordo che abbiamo oltre 12 aziende, quindi troviamo un po' di tutto qua al centro caro Mas Barassi. Personalmente il tetto van tourer ha quel qualcosa in più, anche sul fatto di avere il riscaldamento nella parte invernale, il telo invece non è invernale, nessuno, nessun altro, è possibile comunque tramite OPT ordinarlo su entrambe le aziende. Andiamo a vedere il tetto della van tourer, quindi andiamo a vedere questa retroilluminazione, molto bello anche il discorso del materasso, laterale appunto troviamo tutte le varie, cose che vi ho appena elencato, prese USB per quanto riguarda il riscaldamento, portabottiglie, insomma davvero troviamo tutto, molto interessante anche la centralina della van tourer, accensione e spegnimento del tetto pop up, qui invece rimane come vi ricordo l'oblò nella parte posteriore, quindi è possibile inserire aria condizionata, max fan, turbo, insomma tutto quello che necessitate. 165 cavalli è la parte del motore, motore che quest'anno van tourer ha scelto Peugeot, ha scelto anche dovuto alla situazione in cui ci troviamo, vi ricordo che questi veicoli sono entrambi in pronta consegna. Invece andiamo a vedere il tetto della van tourer, diverso come vi dicevo, SCA, non abbiamo una vera e propria illuminazione, quindi laterale non abbiamo come abbiamo visto poc'anzi su van tourer, ma è totalmente apribile quello della van tourer con controtelaio in zanzariera, invece questo della van tourer è apribile sui tre lati, come vedete la parte centrale che è apribile con zanzariera, laterale abbiamo una zanzariera e tutto il tetto ovviamente è possibile anche vi prendete un acquazzone, non ha nessun tipo di problema, quindi entrambi i tetti, vi ricordo che però se il tetto della van tourer viene scoperto che è già possibile farlo, attenzione, di default dovete ricordarvi di chiuderlo perché se no c'è solo la zanzariera. Entrambi i tetti non subiscono problemi di intemperie e quindi si possono utilizzare anche nella fase invernale, il mio consiglio è quello di avere una coibentazione comunque anche su van tourer, nonostante abbia un riscaldamento di 6 kilowatt e già la bocchetta che va su. I teli sono entrambi impermeabili, come dico questo è un tetto più semplice ma un tetto davvero di una ottima, veramente ottima qualità. Per chiudere invece all'interno del bagno, adesso questo che voi vedete è semplicemente la pellicola di protezione, è possibile chiudersi come vedete nella parte del bagno del Twin R, diciamo che il bagno ve l'ho fatto vedere molto più espressamente sul Twin R invece per quanto riguarda il modello van tourer come vi spiegavo è possibile aprire portabattente ma vi allego sicuramente una foto o se avete bisogno chiedetemelo, come vedete invece qui le cerniere sono totali quindi è possibile aprire totalmente il veicolo, 140 cavalli per concludere POSL, una meraviglia ma anche una meraviglia lui, van tourer 600D POSL to win R, guardate un po' cosa potete venire a vedere al centro Caravans Barassi, questa è solo una sezione compatta di veicoli van ma in realtà li abbiamo riportati tutti davanti, davvero tantissimi potete venirci a trovare anche oggi stesso, io vi aspetto e vi ringrazio per aver seguito questo video con me che sono Luca del centro Caravans Barassi con loro protagonisti POSL to win R, van tourer 600D su Peugeot e su Citroen, ciao a tutti ragazzi e buon weekend!